Buongiorno, benvenuti a tutti al 37esimo concorso internazionale dell'olino Rodolfo Lipizza. Siamo giunti al penultimo appuntamento delle prove eliminatorie. Anche in questa sessione pomeridiana ci saranno cinque concorrenti. Il primo concorrente di questo pomeriggio è Gui Bin dalla Cina di anni 24. Eseguirà nell'ordine di Johann Sebastian Bach, la ciaccona dalla seconda partita in Re minore. Di Rodolfo Lipizza, variazioni allegro, comodo, allegro sostenuto dalla tecnica superiore del violino. Di Sivoli, studio capriccio numero 7 dall'opera 25. Per concludere, di Wolfgang Amadeu Mozart, il concerto in La Maggiore KV219, primo movimento e cadenza Levin. Al pianoforte, Eugenie Sinaiski. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.